guarda come tengo il pennello questo mi permette vedi di avere delle pennellate se voglio lunghissime e la cosa strana te lo assicuro tenuto così il pennello è più preciso a seconda di dove lo uso ma fondamentalmente è perché lo tengo così distante stranamente invece che tenerlo così stranamente così è molto meno preciso che tenuto così certo devi farci la pratica e imparare a mirare bene è tutta una questione di mira però una volta che ci hai preso l'abitudine il pennello va esattamente dove vuoi che vada e tu sei abbastanza distante abbastanza rilassato per farlo andare dove vuoi